Dal sito dell'arte i primi risultati sui rilievi effettuati in alcuni dei 100 punti di captazione a largo della costa abruzzese. Non si registrano particolari criticità, a parte i soliti punti, una decina in tutto, oltre le foci dei fiumi dove l'andamento è altalenante. Dati più scarsi rilevati qualche settimana fa, ma non particolarmente significativi, visto che in quei giorni ha piovuto molto. Ma è proprio su questo aspetto che si dovrebbe una buona volta intervenire, così come è sollecitato da più parti per risolvere il problema alla radice. Ci sono dieci tratti scarsi e in questi si inizierà con un divieto di balneazione e anzi la norma dice che non bisognerebbe permettere la balneazione fino a quando non viene tolta la causa di questi problemi. Quindi se si fa un nuovo depuratore, allora magari lì si può, dopo analisi positive, riaprire la balneazione. Di dieci tratti sono il 9%, una quantità purtroppo molto elevata perché nel resto d'Italia siamo all'1,5%. Quindi vuol dire che l'Abruzzo ha ancora delle criticità importanti, soprattutto dove appena a nord e a sud di alcuni fiumi, il fiume Pescara, il Feltrino, i Larielli, il Foro, anche il Tordino ha dei problemi. Quindi purtroppo l'importante sarebbe intervenire sui fiumi e guardare nel lungo periodo e non guardare la rincorsa al singolo dato, alla singola analisi, è scorretto. Mai adeggiarsi sugli allori dunque, anche a Pescara ad esempio, dove serpeggia un cauto ottimismo tra i balneatori, soprattutto dopo i lavori alla diga furanea in vista della realizzazione del nuovo porto. Il Comune e la Regione hanno lavorato benissimo, in primis con il taglio della diga, chiudendo tutti i scarichi che stavano lungo l'asta fluviale e facendo altri interventi. Poi anche noi, i balneatori, diciamo alcuni, abbiamo provveduto a fare altri investimenti, diciamo le piscine, che io personalmente all'inizio ero molto contrario, che però ho dovuto fare per sopperire a tutti questi problemi che ci sono stati negli anni precedenti. C'è dunque voglia di guardare avanti, non fermarsi ai soliti lamenti, con la speranza che i nuovi amministratori della città possano trovare una soluzione definitiva, con vista, chiaramente, sulla realizzazione del nuovo piano regolatore portuale. Insomma, anche in vista dei nuovi lavori per il porto, insomma, siete abbastanza felici. Noi siamo assolutamente ottimisti e tutto quello che viene fatto per la miglioria della città non può nient'altro che trovare la nostra piena accoglienza.